Al capitolo 2, per quelli che amano leggere la Bibbia sanno che il libro del Genesi è il più difficile da trovare. Se uno apre la Bibbia all'incontrario lo trova sicuramente alla fine. Bene, però se leggete tutti l'italiano, e quindi avete una Bibbia in italiano, è il primo libro che vi capita, pure chi non ha mai letto la Bibbia, non faticherà molto a trovare il libro del Genesi. Ma quelli che leggono la scrittura sanno che il primo capitolo racconta della creazione e il secondo capitolo, nella sua seconda parte, rifà un racconto della creazione in una prospettiva diversa. E dal capitolo 2 io vi leggo il verso 8 Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad Est, e vi pose l'uomo che aveva formato. Verso 15 L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo In questo secondo racconto della creazione, l'uomo ha un ruolo centrale. Perché Dio dopo aver fatto il creato, dopo aver fatto tutto quello che il primo racconto definisce essere buono, esagerando un poco dopo la creazione dell'uomo, lo scrittore dice che Dio vide che era molto buono. Allora, le sorelle dicono Ma quel molto buono è dovuto al fatto che dopo l'uomo ha fatto la donna. E allora, visto come gli era venuto, ha detto che era molto buono. Qualcuno a favore dei fratelli dice Era tutto molto buono perché Dio aveva fatto l'uomo e non aveva ancora pensato alla donna. Mo' scegliete la parte che volete Ma il racconto del Genesi ci dice che la creazione di Dio era buona. E per buona non si intende bella. Conoscete la differenza tra una cosa buona e una cosa bella? Difficilmente una cosa bella è commestibile. Ma ci sono tante cose brutte Ma che sono buone e saporite. Ciò che Dio produce con le sue mani è buono. E l'Apostolo Paolo scrive che tutto coopera al bene Per coloro che amano Dio, per quelli che temono di... Perché tutto coopera al bene? Perché chi ha conosciuto Dio sa che da Lui procede soltanto il bene. E ciò che Dio dona ai suoi figli è per il loro bene. Anche se tante volte quello che si riceve non riusciamo a comprendere il bene. Non riusciamo a conoscerlo e a riconoscerlo. Ma ciò che Dio fa è certamente qualcosa di buono. Ed è sicuramente buono. Perché ciò che anima L'Iddio che noi confessiamo L'Iddio che la Bibbia ci ha fatto conoscere È l'amore. E il Vangelo di Giovanni ci ricorda che egli ha tanto amato Che ha dato L'amore di Dio Il suo voler far del bene Lo porta a dare se stesso Per l'intera umanità Questo è il Dio con il quale noi abbiamo a che fare Ma di questo Dio il libro del Genesi e i versi che noi abbiamo letto ci dicono Che Dio dopo chi ha creato Dopo chi ha fatto questo mondo Ma non è solo il mondo inteso terra Dobbiamo intendere mondo come universo Perché nella creazione si parla anche dei luminari Si parla del sole Si parla della luna e di conseguenze di riflessa di tutti i pianeti Che sono nell'universo che noi oggi conosciamo Era molto buono Ma ne abbiamo letto Che lui prende l'uomo E lo pianta in un giardino Dio non mette l'uomo su tutto il creato Sull'opera buona di Dio Dio ne fa una migliore Nel mondo buono che aveva creato Fa nascere un giardino L'Eden Fa un posto migliore E lo regala all'uomo Questo dice a me, dice a voi Che Dio non ci ha reso parte di un'opera generale Ma che Dio vuole per ciascuno di noi Un posto migliore Un giardino dell'Eden Un giardino dove la scrittura dice Egli fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi Che erano buoni da mangiare E in questo giardino, dice il verso 9 C'erano l'albero della vita in mezzo al giardino E' l'albero della conoscenza del bene e del male Il giardino dell'Eden era il luogo nel quale Dio scendeva A incontrare la sua creatura E' nel giardino dell'Eden che Dio scende sullo spuntar della sera E grida Adamo dove sei Il giardino dell'Eden rappresenta quel qualcosa in più Che Dio affida ad ognuno di noi Che tanto è il posto dove lo possiamo incontrare Tanto è il posto che lui ha fatto per noi E ho affidato Non ai nostri divertimenti E' vero, la scrittura dice che c'erano alberi piacevoli da vedere Ma non c'erano le montagne russe Non c'erano gli scivoli sull'acqua Non c'era il parco divertimenti Non c'erano le slot machine Non c'erano i videogames Pose lì l'uomo E il verso 15 che abbiamo letto Dice Pose dunque l'uomo Nel giardino dell'Eden Per chi lo lavorasse E lo custodisse Allora Se noi come genitori ci sostituissimo a Dio in questo momento E facessimo ciò che lui ha fatto Con Adamo e quindi con l'umanità Con gli esseri umani in generale Lo facessimo con i nostri figli Ciascuno di noi ci avrà una casa In affitto o di proprietà Qualcuno c'è il pezzetto di giardino Qualcun altro c'è la campagna In quella che è la vostra proprietà Ritagliate un pezzo Se siete in un appartamento Prendete una stanza E affidatela a uno dei vostri figli E poi gli dite Io ti ho posto qui Affinché tu lo lavori E lo custodisca Ditemi un po' Farebbe salti di gioia O comincerebbe a dire Papà, mamma, ma Non stai bene con la testa Come con tutto sto spazio Mi affidi questo posto Quanto è faticoso Far sì che i propri figli Tengano a posto la propria cameretta Chiudeteli nella cameretta Chiave tanto escono Quando hanno messo a posto Perché Dio prese Adamo e gli disse Questo è il posto nel quale Io ti pongo E tu lo devi lavorare E custodire Cosa vuol dire Lavorare E custodire Quando si pensa al lavoro Anche quelli che non lavorano Pensano alla fatica A una cosa che non piace A un qualcosa che fa sudare Ma non è questo il lavoro Lavorare Il giardino dell'Ede Lavorare quello che Dio ha affidato Alla tua vita Non è altro che far qualcosa Per farlo crescere Ricordate la parabola dei talenti A chi uno A chi tre A chi cinque E a tutti quanti fu detto Che cosa? Trafficateli Lavorate Per farli crescere Per farli moltiplicare E se voi rileggete Il racconto del Genesi In un altro punto Si dice Che Dio dice All'uomo e alla donna Crescete E moltiplicate Allora uno intende questo Soltanto sull'aspetto sessuale Che dovevano fare Figli in continuazione C'è un giardino Che Dio ha affidato Ad ognuno di noi Che deve essere Lavorato Per uno scopo Ben preciso Perché se è proprietà Di Dio Non può rimanere Nella sterilità Se è proprietà Di Dio Non può essere Abbandonato Se è proprietà Di Dio Non può essere Trascurato E allora qui Cominciamo a ragionare Su dei temi Ben precisi Il primo tema Potrebbe essere Che il giardino Dell'Eden Rappresenta La terra stessa Rappresenta Il creato Quel creato Che sempre L'epistole romana Ci dice Che geme In attesa Della manifestazione Dei figli di Dio Geme Perché ha Speranza In Dio E noi viviamo In un territorio Che sta gemendo Sta soffrendo Piange E da una parte La terra piange Dall'altra parte Noi piangiamo I morti Della nostra terra Ci piangiamo I morti Per tumore Ci piangiamo I morti Per leucemia Preghiamo Tutti i giorni Affinché malattia Non ci colga E chi non ha Il senso Di Dio Chi non ha La sensibilità Delle cose Di Dio Davanti a questo Scempio Si domanda Ma Dio Dov'è? Ma chi conosce La Bibbia Sa che Dio Ha posto L'uomo A custodia Della terra Se ci sono Delle responsabilità Sono degli uomini E quando dico Uomini Non sono solo I nostri governamenti Sono di tutti quanti noi Sono le nostre Perché certe cose Non sono dovute Solo ai rifiuti nucleari Questa è una predicazione All'interno del culto Non vi dovrei parlare Di come si gettono I rifiuti Della civiltà Dell'immondizia Che si getta Dal finestrino Della macchina Dell'olio Che si versa Dentro al lavantino Dopo averci fritto Dopo averci fritto le alici Qui sono per fare il pastore Non mi devo fare Un corso di Educazione civica Ma il cristiano Ma il cristiano Il cristiano Dovrebbe essere Una persona Educata Con il senso civico E il rispetto Di ciò che Dio Gli ha affidato Adamo Adamo non aveva Il problema Dei rifiuti Era nudo Non c'erano Le fabbriche Per fargli le scarpe Per fargli gli abiti Non c'erano Gli scarti Della produzione Industriale Non teneva Il televisore Ieri Al plasma Oggi Al led Tra qualche anno Di qualche altro Prodotto E quindi Attaccava E staccava Un televisore E quando Staccava il vecchio Non sapeva Che ferne fargli fare Lo metteva Nel cofano O sulla carretta Dietro un animale Alla prima campagna Lo appoggiava Chi fa queste cose Io sono tra quelli Che pensa E' acqua Anna E' acqua Chi fa queste cose Pecca E' peccato Per chi far del male Alla terra Seminare morte E fare male Al nostro prossimo E quel prossimo Siamo anche noi Sono anche i nostri figli Sono anche i nostri nipoti E che ci piacciono E che ci piacciono di queste cose I credenti Devono cominciare A ragionare A riflettere Non sempre a stare A guardare Non possiamo pregare Signore Intervieni Fa qualcosa Vi dicevo prima Che l'opera di Dio Passa per le nostre mani Dio disse ad Adamo Lavora E custodisci Prenditene cura A noi non piace Avere delle responsabilità A molti piace dire Ma io devo lavorare C'ho altro a cui pensare Poi però Quando ci troviamo Ad incrociare Certi problemi Quando il problema Diventa personale Allora ne devono parlare Tutti quanti E no Non si fa così Ama il prossimo tuo Come te stesso Non devi avere tu Un problema Per poi capire Il problema degli altri La Bibbia ci sfida Ad avere un atteggiamento Diverso A comprendere Il problema degli altri Senza che noi Lo abbiamo vissuto O lo stiamo vivendo Questo vuol dire Avere l'amore di Dio Questo vuol dire Avere la misericordia Avere le corde del cuore Che vibrano Per la sofferenza Degli altri Lavorare E custodire Ma non è solo questo Il giardino dell'Eden Il giardino dell'Eden È la propria famiglia Il giardino dell'Eden Può essere il gruppo Del progetto IET Il giardino dell'Eden È la classe di scuola Domenicale Il giardino dell'Eden È il posto di lavoro Il giardino dell'Eden È la palazzina Dove tu abiti Il giardino dell'Eden È ogni posto Dove la pianta Del tuo piede Calcherà È dovunque Tu e Dio Possiamo essere Quello è il giardino Dell'Eden È dove siamo Dio comanda a me Comanda a te Lavoralo E custodiscilo Prenditene cura Abbi nel rispetto Fa qualcosa per migliorarlo Fa qualcosa per aggiustarlo Fa qualcosa per farlo crescere E avere questo atteggiamento Vuol dire non avere dei sentimenti egoistici Vuol dire non pensare ai propri interessi Dio ha tanto amato il mondo Lui Ha dato il suo unigenito figlio E noi non riusciamo a dare Un'unigenita ora Un'unigenito giorno Un'unigenito mese Un'unigenito anno A seconda di quello che sono le nostre possibilità E le nostre capacità Il bello di questo racconto Sapete qual è Perché uno parlando di responsabilità Di lavoro Di custodia Di tutela Di difesa Dice ma qua bisogna sempre far qualcosa Non so voi Ma io nel fatto che Dio prende Adamo E gli affide il giardino dell'Eden Che era il meglio che Aveva fatto della creazione Era la cosa migliore Che Dio aveva prodotto Lo affida ad Adamo Noi con il senno di poi Per quello che è successo Dovremmo dire Era fatto il guaio più grosso Che poteva fare Se la pensiamo così Sta continuando a fare guai Dio Perché continua ad affidare Parte della sua opera A persone come me E come te Allora io voglio che noi guardiamo Questa medaglia Da un'altra prospettiva Dio ha fiducia di noi Dio ha fiducia di te Dio ha fiducia di me Se tu hai un qualcosa di importante Di prezioso Di care Lo affidi a qualcuno Di cui non ti fidi No Sarebbe da irresponsabile Prendere le chiavi di casa propria E darle nelle mani di qualcuno Che tu sai essere un ladro Dio invece ha preso la sua creazione Ha preso il mondo Ha preso la chiesa Ha preso i fratelli Ha preso le sorelle Ha preso i nuclei familiari E li ha affidati A gente scombinata come noi A gente inaffidabile A gente di poco rispetto A gente di poco conto E questa è la nostra prospettiva Ma la Bibbia ci dice Ha scelto voi Perché ha fiducia di voi Dio si fida di te Noi crediamo in lui Ma egli ha fiducia di noi Non si spiega Perché Avrebbe scelto noi Giuseppe a dire Ai discepoli Non siete voi Che avete scelto me Siete voi Scegliete le persone Di cui vi potete fidare O le persone Di cui non vi potete fidare Paolo che cosa dice a Timoteo? Scegli uomini Fedeli Vuol dire persone Di cui ti puoi fidare E affida loro Le cose che sono state Affidate a te E questi uomini Di fiducia Devono essere A loro volta Capaci di affidarle Ad altri E' tutto un passaggio Di fiducia All'opera di Dio Allora Se riflettiamo In questo modo L'opera di Dio L'azione di Dio Il risveglio di Dio La potenza di Dio L'amore di Dio La salvezza di Dio E' nelle nostre mani E' qua Non ti deve chiedere addosso Dio l'ha messo già Nelle tue mani Lavorala E custodiscila Datti da fare Fallo crescere Fallo moltiplicare Io vorrei che davanti A questa breve riflessione La nostra fide Allargassi i suoi orizzonti Perché Eva Coglierà Il frutto Dell'albero Della conoscenza Del bene E del male Ma nel giardino I versi precedenti Il verso che vi ho letto Il verso 9 Dice che c'erano frutti Buoni da mangiare C'era C'era l'albero Della vita In mezzo al giardino E c'era l'albero Della conoscenza Del bene E del male Quando La donna Colloquia Con il serpente Dirà Al serpente Che Dio Gli ha chiesto Di non mangiare L'albero Che era al centro Ma non era vero Si era confuso L'albero Che era al centro Era l'albero Della vita Dio proibisce All'uomo Di non mangiare Il frutto Dell'albero Della conoscenza Del bene E del male Noi dobbiamo andare Ogni giorno Perché questa è La forza Della chiesa Questa è la forza Dei figli di Dio Non all'albero Della conoscenza Del bene E del male Non dobbiamo avere La presunzione Di avere i rimedi Ai mali del mondo Non dobbiamo avere La presunzione Di avere la soluzione Ai problemi Delle persone Perché la soluzione Ce l'ha soltanto Dio Ma noi dobbiamo andare All'albero Della vita Che è Cristo Gesù Aggrapparci a Lui Perché Gesù Ha detto Voi senza di me Non potete Fare nulla E allora La chiesa Rispetto Agli amici Che sono fuori Della chiesa Che combattono Per il sociale Che si spendono Nella solidarietà Che vorrebbero Cambiare il mondo Con le rivoluzioni Civili Non sanno Che senza di Cristo Non possono fare nulla Perché è vero Che il principe Di questo mondo È il diavolo Loro non lo possono Vincere Ma la chiesa È più che vincitore In Cristo Gesù Noi abbiamo La forza E l'autorità Di Dio Per comandare A principati Dominatori E potestà Che sono Nei luoghi celesti Di tornarsene All'inferno Questa autorità Ci appartiene Ci è stata data Non possiamo stare A guardare L'autorità Va esercitata Va tirata fuori È arrivato il momento Che la chiesa Tiri fuori Le unghie E cominci A graffiare Il peccato Però per fare Questo Dio ci deve Aiutare A cacciare Il peccato Dalla chiesa Dio ci deve Aiutare A purificare Le nostre menti E i nostri Cuari Non possiamo Combattere Il cancro Del mondo Se ci abbiamo Il cancro Dentro di noi E allora qui Bisogna essere Onesti Perché quando Dio scenderà Nel giardino Dell'Eden A cercare Adamo Adamo Gli dirà Mi ero Nascosto Ma possiamo Nasconderci A Dio L'occhio di Dio Vede dove Noi Pensiamo Che nessuno Vede Ecco perché Dicevo All'inizio Di questa Riflessione Non servono Le chiacchiere Ci vogliono Le azioni Non vogliamo Conoscere Non vogliamo Questa presunzione Di sapere Invece Vogliamo Riconoscere Che non conosciamo Abbastanza Ma vogliamo Mangiare L'albero Della vita Vogliamo Mangiare Il frutto Di Cristo Gesù Lasciare Che il sangue Di Gesù Continua A purificare La nostra vita Ogni giorno Vogliamo Mangiare Per mezzo Della parola Di Dio Il suo corpo Che alimenta La nostra Fede Tanto La scrittura Ci dice Che in questa vita Conosciamo In parte Verrà il giorno In cui Conosceremo Appieno Ma quello Che oggi Conosciamo In parte Ci basta Sapere Che la nostra vita È in Cristo Gesù Ma non possiamo Rimandare Tutto All'opera Di salvezza La salvezza A che fare Con l'aspetto Spirituale Della vita A che fare Con l'anima Della gente Ma il nostro Corpo La nostra vita Terrena La dobbiamo Curare La dobbiamo Difendere La dobbiamo Proteggere Sai perché? Perché è un dono Di Dio E se non lo Facciamo Lo dispreziamo Dio l'ha Dato a noi Affinché Noi ne avessimo Cura E sai perché? Perché Egli si fida Di te Dio si fida Di me Io non Trovo Nella scrittura Una cosa Bella Quanto questa Avere la fiducia Di Dio Altro che Essere Il presidente Di una repubblica Il primo ministro Tanto quel che fai Fai Ci sarà sempre Chi si lagnerà Ma sapere Che Dio Mi ha scelto Perché si fida E se qualcuno Si fida di te Qual è la tua Preoccupazione Di non Deludere E quante volte Abbiamo già deluso Il Signore E quante volte Lo deluderemo Ancora Ma lui è talmente Pazzo Che si fida Ancora di me Continua a darci Nuova possibilità Fino a quando Abbiamo un alito Nei nostri polmoni Vuol dire Che Lui Si fida di noi E che ci dà Una possibilità Per dimostrare Che vogliamo Lavorare E difendere La sua opera Signore Grazie Non posso Dire altro Che Signore Grazie Dio vi benedica Vi invito ad alzarvi Vogliamo Chinare Il nostro Capo Perché sono Sicuro Che questa Riflessione In più di Qualche Cuore Ha fatto Sollevare Il timore Di un fallimento Perché quando Ci confrontiamo Con quello Che Dio Si aspetta Da ciascuno Di noi La nostra Coscienza Umana Una coscienza Una coscienza Che non ci ama Come Dio E' pronta a dirci Tu hai fallito Quante cose Belle Ti erano state date Ma non ne hai Fatta durare Nessuno Una volta E due E tre Tutto ciò Che le tue mani Hanno Lavorato Curato Anziché Crescere E' diminuito E' disciolto Sappi una cosa La parola di Dio Questa sera Non ti accusa Non è qui Per giudicare Ciò che hai fatto Fino ad oggi Questa parola Questa sera Ricorda A me E a te Con forza Che Dio Si fida di te Che gli ti affronti Ti ha affidato Un lavoro Ti ha affidato Una famiglia Ti ha affidato Un progetto Ti ha affidato Una piccola responsabilità Qualcosa di sicuro Egli lo ha posto Nelle tue mani E se fino ad oggi Non sei riuscito A lavorarlo E a farlo crescere Come volevi Forse la risposta Ti viene da questa parola Hai cercato Di conoscere Il male E commesso Hai cercato Di capire Il bene Che non sei riuscito A fare Ma la soluzione È un'altra Andare al centro Dell'Eden All'albero Della vita Andare a Cristo Gesù A colui Che ha detto A voi Che siete stanchi E travagliati Venite a me Ed io vi darò Il riposo Lì è la soluzione Lì è la risposta Portare la nostra vita Ai piedi Del Signore Gesù Ai piedi Della croce Ai piedi Di quel legno Sul quale È stato sparso Il prezioso sangue Dell'agnello Dove un corpo È stato rotto Per i miei E per i tuoi peccati Signore aiutaci A mangiare Del tuo corpo Aiutaci a bere Del tuo sangue Perché senza di te Non possiamo fare nulla Signore intervieni Intervieni su ciascuno Di noi Intervieni sulla vita Di ognuno di noi Dona nuovo vigore Alle mani Che si erano arrese Dona nuova forza Alle ginocchia Che si erano piegate Dona autorità A ciascuno di noi Per comandare Al diavolo Alle sue schiere Di stare lontani Nel nome di Gesù Signore donaci La forza E il coraggio Per denunciare Il nostro peccato Alle nostre mancanze Ma di guardare E difendere Anche il fratello E la sorella Che tu ci hai affidato Di guardare E difendere Ancora il creato Che tu hai donato All'umanità tutta Sappiamo di essere piccoli Ma tu sei grande E certamente con ti Possiamo fare grandi cose Intervieni sulle nostre vite Nel nome di Gesù Buon appetito Ciao .